Buongiorno a tutti i traders, eccoci con un video dove vorrei presentarvi un nuovo e davvero rivoluzionario servizio di educazione finanziaria e di trading che ho appena formulato e che mi piacerebbe proporre a tutte le persone che vogliono dedicare del tempo alla propria gestione dei propri soldi in modo professionale, in modo serio, in modo corretto, in modo ordinato in modo da far crescere piano piano il proprio patrimonio. Infatti ho appunto pensato ad un servizio in abbonamento mensile che può andare molto bene sia per chi parte da zero per capire come funziona la mia metodologia di trading, per capire come io do i miei outlook di mercato, quindi capire la mia vision, capire quali setup di prezzo preferisco, capire la parola setup, la parola entry, alcune importanti nozioni finanziarie ed economiche che fanno parte comunque ormai di tutti i nostri giorni, come per esempio parlare di cosa significa spread, di come può influire anche sia nella vita di tutti i giorni che magari in un percorso di trading finanziario di un certo tipo. Tutti insomma gli ingredienti per un'operatività giornaliera di trading anche per chi appunto parte da zero. Mentre per chi per esempio ha già effettuato un corso con me, una coaching o comunque il percorso FX Insider è utilissimo perché in quel modo diciamo si può andare a contestualizzare alcune situazioni di mercato che magari sono state viste durante una coaching o un corso però che non si riescono magari ancora in maniera corretta a far contestualizzare proprio nel mercato di ogni giorno, che ogni giorno insomma è una sfida, ogni giorno è un movimento differente. Ecco perché appunto ho cercato di vedere una opzione oltre a quella dei soliti corsi e le solite coaching che sicuramente sono importanti però un portare per mano quindi un appuntamento di due ore ogni settimana via online quindi con una classe con varie persone dove voi e tutte le persone che partecipano possono con me dialogare appunto riguardo ad alcuni setup, riguardo al significato di alcuni dati macroeconomici che possono avere rilevanza di essere dei market mover per alcune copie valutarie piuttosto che per alcuni indici o commodity con CFD che seguo e poi insomma dedicare appunto queste due ore ogni settimana quindi un totale di otto ore in un mese dove si va appunto anche attraverso magari richieste proprio di chi fa parte della classe dove si può andare a discutere certe tematiche, alcuni setup che si è appunto sfruttati durante la settimana o anche non sfruttati perché non si è fatto appunto un trade piuttosto che un altro. Quindi tutto questo, la gestione appunto operativa dei trade, dell'emotività e tutti insomma i vari ingredienti che fanno parte della torta del trader che ogni giorno sfida se stesso e l'attività appunto di stare sul mercato ogni giorno. Quindi direi che ho detto un po' tutto, comunque nella pagina qui dove c'è appunto questo video di FX Masterclass comunque potete leggere anche le varie cose e quindi come è strutturato realmente questo servizio che credo sia realmente innovativo e importante per chi appunto vuole fare bene nel trading e al costo guardate qua di soli 89 euro, quindi 89 euro per otto ore al mese con divisione desktop che verranno probabilmente gestite nel tardo pomeriggio quindi un po' per tutti gli orari, insomma per tutte le persone che hanno giustamente anche un'altra attività e quindi insomma direttamente da casa con la possibilità di condividere appunto il desktop e di fare delle ottime lezioni di educazione e di informazione e formazione finanziaria, economica e di trading soprattutto. Quindi direi che ho detto un po' tutto quello che dovevo dire, spero di vedervi in molti e di continuare il percorso che soprattutto con molti è già iniziato con altri vari servizi. Vi mando un saluto a tutti e vi auguro un buon trading simple Arduino Schenato Hereforex.